Vediamo meglio che cosa significa R seno di alfa, cioè quale interpretazione geometrica ha. Tracciamo la perpendicolare che dal fulcro va a cadere perpendicolarmente sulla retta della forza. Questa è la forza che viene applicata nel punto P, tutto quanto è corpo rigido, questo è il fulcro. Noi prolunghiamo la retta dove giace la forza, che è questa retta qui, e poi tracciamo la perpendicolare dal punto O, dal fulcro, alla retta della forza. E questa perpendicolare cade in questo punto. Ora si è formato questo triangolo rettangolo e l'ipotenusa è R. Qui compare seno alfa, ricordiamo che in un triangolo rettangolo seno alfa, questo è l'angolo alfa, è uguale, opposto al vertice del nostro angolo alfa. Il nostro angolo è questo, però lo stesso angolo, stesso valore è quest'altro angolo qui. Ricordiamo che per definizione di seno alfa, in un triangolo rettangolo, seno alfa è il rapporto tra il cateto opposto, quindi B, diviso l'ipotenusa. Se facciamo la formula inversa, l'ipotenusa R per seno alfa fa B, quindi B è R seno alfa, l'ipotenusa per il seno dell'angolo. Quindi R seno alfa è la lunghezza di questa perpendicolare, questo cateto B. E questo è veramente il braccio, quindi il braccio della forza non è la distanza tra il fulcro e il punto d'applicazione, cioè non è R, ma è la distanza tra il fulcro e la retta dove giace la forza, cioè la retta della forza. Quindi è B il braccio. Tornando all'esempio di prima, queste tre forze sono applicate tutte nello stesso punto P, all'estremità della porta, però hanno tre bracci diversi, perché il braccio non è OP, il braccio è la distanza tra la retta e il fulcro. Allora prendiamo la forza F1, questa è la retta della forza F1 e la perpendicolare, la distanza tra il fulcro e la retta è questa. Quindi l'unica delle tre forze che ha veramente il braccio pari a OP è la forza F1. La forza F2 ha un braccio minore, infatti se noi prolunghiamo la retta, F2 sarebbe questo disegno qui, questa F2, se noi prolunghiamo la retta così e tracciamo la perpendicolare, la distanza tra il fulcro e la retta è il braccio, sarebbe questo qui, e è più corto di OP. Quindi F2, questa retta, ha un braccio più corto di OP. F3, ecco perché è meno efficace, per far ruotare il corpo rigido, perché ha un braccio minore. F3, se noi prolunghiamo la retta, dove giace la forza F3, noi prolunghiamo e va a finire proprio che passa per il fulcro. Quindi la distanza tra il fulcro e la retta di F3 è 0, perché la retta di F3 passa proprio per il fulcro. E quindi la forza F3 non ha braccio, quindi il braccio non è OP, il braccio della forza F3 è 0, perché la forza F3, prolungata, va a passare per il fulcro. Ecco perché la forza F3 non ha nessuna efficacia nel far ruotare la porta, perché non ha braccio. E' spiegato qua, una forza è più efficace nel generare la rotazione del corpo rigido, cioè ha un maggiore momento torcente, se ha un braccio lungo, cioè se la sua retta di azione passa lontano dal fulcro. Quindi quello che conta è il braccio, cioè quanto lontano la retta su cui sta la forza passa, quanto lontano passa questa retta dal fulcro. Quindi il braccio. Questo è il discorso che abbiamo fatto un attimo fa a proposito di questa figura. Vediamo la forza F1, questa è la sua retta e questo è il suo braccio. B1 è uguale a R. Questa è la forza F2, questa è la sua retta, questo è il braccio della forza 2, la distanza fra il fulcro e la retta. B2 è invece la F3 e ha un braccio nullo perché la retta dove sta la forza passa per il fulcro.